Era il 19 giugno scorso quando il piccolo Edoardo Bassani annegava nella piscina del parco Mirabitch nella Ravennate. Su il resto del carlino emergono i dettagli dell'autopsia che è stata depositata nei giorni scorsi nell'ambito del procedimento penale che vede indagate 10 persone. La madre del bimbo di 6 anni, una bagnino di 18enne cesenate e vari responsabili del parco tra cui il direttore generale e quello operativo. Non ci sono dubbi su quanto è accaduto, quel tragico giorno la mamma lo lasciò da solo per pochi minuti nel punto della piscina alto 30 cm dicendogli di restare lì. Pochi minuti che però sono bastati al piccolo per spostarsi attirato probabilmente dalla musica della baby dance andando però dove l'acqua era alta un metro e dieci più o meno quanto lui. Gli altri bimbi, nell'euforia e nel divertimento di quegli attimi, non si sono accorti di nulla. Un video testimonia tutto questo, una sequenza di 8 minuti. Gli inquirenti ora indagano per omicidio colposo in cooperazione mentre la mamma con tutta evidenza non si dà pace. Una tragedia che per i magistrati si poteva evitare.